Aurea Lanfranchi, oggi una delle squadre più attese è la tua Aurea Zanica, come correrà? Vediamo un po' come si evolve la corsa, il problema principale è che correndo solamente 4 corridori per squadra è difficile tenere la corsa e la gestione, vedremo un po' quello che gli dico sempre ai miei ragazzi di correre davanti e di inserirsi nelle fughe e poi in base a chi c'è decideremo un po' come comportarci. Ieri bellissima sorpresa quella di Bertoli, un bellissimo terzo posto. Sì, magari per molti è una sorpresa, io che lo conosco da due anni e conosco bene le potenzialità di Bertoli, so che è un ottimo passista, magari non mi aspettavo anch'io un podio però che avrebbe fatto una bella cronometro sicuramente.